Ben tornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Michelle Lunsichera ha fatto parlare di sé negli ultimi mesi per la sua relazione con Giovanni Angiolini, ma ora pare che la relazione sia già lontana anni luce e lei si è avvicinata a un suo famosissimo ex Dopo la rottura con Tommaso Trussardi, con il quale è stata sposata per ben dieci anni, Michelle Lunsichera sembrava aver ritrovato l'amore, o almeno il romanticismo, con Giovanni Angiolini, il famoso chirurgo delle star nonché ex Jeffing La conduttrice è stata avvistata spesso con lui, in atteggiamenti romantici, al mare e anche con le figlie di lei Ma ora, sembra che Michelle sia partita per nuovi orizzonti lasciando alle spalle la sua relazione con Angiolini Ma dov'è andata? Proprio molto vicino a un suo ex che rimarrà sempre nel suo cuore Michelle Lunsicher di nuovo single? Ecco le indiscrezioni.Michelle Lunsicher e Giovanni Angiolini sono stati una delle nuove coppie più chiacchierate dal gossip quest'estate, solo dopo Elodie e Andrea Iannone che pure stanno facendo molto parlare i rotocalchi Ma torniamo alla Unzicher.Michelle, infatti, dopo una lunga relazione finita con Tommaso Trussardi, aveva ritrovato la serenità al fianco di Giovanni Angiolini, famoso medico chirurgo delle star, che ha partecipato anche al Grande Fratello I due sembravano molto affiatati, dalle foto che sono trapelate in questi mesi e sembra che Angiolini abbia conosciuto anche le tre figlie della conduttrice Ora, però, sembra che il settimanale Chi riporti una notizia soc, ovvero che la storia tra i due è già finita Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, Michel sembra aver gettato la spugna e ha già dimenticato il bel medico Per consolarsi, intanto, la Unzicher ha trascorso il ferragosto in un un posto molto bello e rilassante, la Franciacorta, proprio vicinissimo alla tenuta di un suo famoso ex Michel Unzicher e Eros Ramazzotti sempre vicini, un amore che non svanisce C'è un detto che dice che si torna sempre dove si è stati bene e Michel Unzicher lo sa bene, infatti, sembra che la showgirl si è partita proprio per la Franciacorta, dove l'ex marito Eros Ramazzotti ha una grande tenuta La storia d'amore tra Michel Unzicher e Eros Ramazzotti ha fatto sognare per tanti anni, i due negli anni 90 erano una delle coppie più amate dello show business, giovani e perfetti, che si amavano alla follia La loro separazione fu devastante, ma negli anni Eros e Michel hanno saputo mantenere un rapporto bellissimo, per arrivare fino ad oggi dove li vediamo complici e sempre vicini l'uno all'altra, nel bene e nel male In questo periodo, Eros Ramazzotti sta trascorrendo del tempo in Franciacorta, dove tempo fa ha costruito una fantastica tenuta, con vigneti, cavalli e distese di verde infinite, dove fare lunghe passeggiate In questi giorni, pare proprio che Michel si sia rifugiata proprio lì, per svagarsi e allontanare la nuova relazione con Angiolini, in cui c'è da dire in molti non credevano affatto I due ex Eros e Michel si sono visti e insieme hanno condiviso alcune sessioni di sport, una delle attività che li accomuna, ovvero, il karate kyokushinkai, una disciplina in cui Michel si è diplomata proprio qualche tempo fa Posa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video